È arrivato da Cosenza fino a Bianco, Reste Morcavallo, l'avvocato che ha fermato il ricorso al Consiglio di Stato per invalidare le elezioni bianchesi che lo scorso settembre hanno visto prevalere con appena 9 voti in più il sindaco Aldo Canturi con la lista Libertà e Partecipazione contro il candidato Pino Serra con Voltiamo Pagina. Il giudizio del Consiglio di Stato ha ristabilito la legalità in questa cittadina ma soprattutto ha cambiato talmente l'indirizzo e ha accolto la mia tesi, così ha esordito. È una sentenza che definire storica non è una affermazione enfatica ma è dal senso dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, un orientamento innovativo e per la prima volta ha sancito la possibilità di confutare le determinazioni del Presidente della sezione in ordine all'ammissione degli elettori al voto con accompagnatore. È una sentenza che ha mutato un orientamento che per tantissimi anni si era consolidato e che io più volte ho cercato di scalfire rilevando che vi è la possibilità per l'elettore, per il candidato non eletto di contestare la decisione del Presidente della sezione laddove questa decisione non fosse stata angorata ai principi normativi che stanciscono che l'elettore con accompagnatore è solo quello che ha amputato delle mani o non ha la vista oppure per patologie di analoga gravità. Nel caso di Bianco sono stati ammessi a votare con accompagnatore 21 elettori che avevano difficoltà di diambulazione, è evidente che sono elettori che dovevano esprimere liberamente il loro voto oppure fare richiesta di votare a domicilio. La sentenza ha rappresentato una svolta importante giurisprudenziale ma per il Comune di Bianco il ripristino della legalità. La lista, voltiamo pagina, la numero uno che era uscita sconfitta per sole nove voti, dalla verifica istruttoria il risultato che invece aveva vinto l'elezione perché sono emerse più schede che sono state annullate in maniera illegittima. I rettari del Consiglio di Stato hanno rilevato che i voti non erano da attribuire perché non vi era la certezza dell'attribuzione alla lista numero uno però se guardiamo queste schede che ancora conservo con la indicazione Cavale, Montepavone o Cerrotti se non mi ricordo male della lista numero uno è evidente, oppure il nome del candidato della lista espresso nei due spazi, è chiara la volontà dell'elettore di valorizzare, di preferire la lista numero uno. Il Tarre e il Consiglio di Stato hanno ritenuto che non vi era la certezza però dal risultato dell'urna è emerso che la differenza di nove voti non c'era, la lista numero uno aveva vinto, questo è il dato importante. Il mio augurio adesso è che la lista numero uno, i candidati, il candidato a sindaco sappiano cogliere l'occasione di questo successo diciamo che non è soltanto un successo giudiziario ma è anche un successo politico e possano accelerare la data dell'elezione per avere una vittoria elettorale e politica che possa ristabilire le regole democratiche e amministrative in questa importante comunità. La conferenza stampa è stata organizzata presso l'hotel Maria, c'era tutto ovviamente il gota del gruppo politico di opposizione ad iniziare dallo stesso Serra e poi anche i consiglieri comunali Silvana Cavaleri, Diego Criaco e Filippo Medici ma anche ovviamente altri politici di spicco della cittadina ad iniziare dal consigliere regionale Giacomo Crinò che ha sostenuto la coalizione. Ora sarà Francesco Campolo il commissario che dovrà amministrare l'ente fino alla data delle elezioni che si terranno probabilmente l'anno prossimo è stato scelto dalla prefettura di Reggio Calabria dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Un compito arduo per Francesco Campolo che dovrà monitorare la situazione del comune e poi indirizzare la programmazione progettuale e quella amministrativa fino alle elezioni della prossima primavera.